Ciao carati che non scimmiate, un saluto da Andrassi il bulgaro, eccoci qui oggi per andare a vedere in breve quello che è uno stabilizzatore video molto interessante, si tratta della Steadicam Eimo da 60 cm un prodotto molto compatto, dai buonissimi materiali e che per il prezzo che ha mi ha veramente al momento soddisfatto andiamo a vederlo assieme questo stabilizzatore è composto interamente da un'asta, due supporti all'estremità uno per i pesi per bilanciare e l'altro per il basamento della fotocamera e l'impugnatura con cuscinetti per la rotazione e possibilità di muoversi in tutti gli assi dal punto di vista dei materiali è composto interamente da carbonio per quanto riguarda l'asta mentre invece è interamente in alluminio per quanto riguarda tutte le altre parti della struttura fate eccezioni ovviamente per la gomma dell'impugnatura quindi non ci sono parti metalliche nonostante il peso sia abbastanza contenuto di questo stabilizzatore e diciamo che è un plus sia perché dà una sensazione di qualità di questo prodotto sia perché dà anche una sensazione di maggior robustezza e resistenza all'usura nel tempo per quanto riguarda il basamento dove viene fissata la fotocamera questo è regolabile in due direzioni quindi sia per quanto riguarda il posizionamento del carellino su un asse e sia per quanto riguarda con la seconda levetta il posizionamento del carellino sull'altro asse in modo da andare a bilanciare perfettamente quello che è il baricentro della propria fotocamera o videocamera su il dispositivo in base alla posizione in cui viene fissato andando a svitare totalmente quello che è la vite di regolazione sulla lunghezza del supporto per la videocamera si va a sganciare quello che è effettivamente l'elemento di fissaggio della propria fotocamera dove sono presenti due viti con dimensioni differenti in base a quello che è l'aggancio della propria fotocamera e che presenta anche una scala graduata in centimetri per poter andare a far combaciare quello che è il posizionamento con il segnale posto sulla struttura in modo da avere un bilanciamento e una regolazione molto più rapida e efficace sul lato opposto invece c'è il basamento quello riferito ai pesi di bilanciamento questi pesi sono regolabili sia per quanto riguarda il posizionamento più o meno vicini all'asse centrale e sia andando a togliere totalmente la vite di fissaggio per andare ad aggiungere altri pesi in modo da bilanciare più correttamente quello che è il peso del nostro dispositivo per la registrazione il dispositivo si chiama stabilizzatore IMO 60 cm proprio perché allungato al massimo arriva a una lunghezza dell'asta centrale di 60 cm questa è il regolabili tramite una vite sempre con struttura totalmente in alluminio per poter andare a allungare o diminuire quello che è il nostro asse centrale quindi ad aumentare o diminuire quello che è l'efficacia dello stabilizzatore in proporzione al peso della fotocamera fissata su di esso e ai pesetti che sono stati fissati all'estremità opposta per quanto riguarda il bilanciamento di questo dispositivo è molto semplice una volta che si riesce a capire quella che è la logica bisogna andare dopo aver fissato la videocamera bisogna andare a posizionare il basamento sui due assi in modo tale che il baricentro vada perfettamente a combaciare con l'asse centrale questo si nota quando una volta fissata impugnando e sollevando lo stabilizzatore questo rimarrà perfettamente verticale sul proprio asse una cosa molto importante a cui fare caso è che quando viene allungato o accorciata l'asta centrale bisogna sempre tener conto che la direzione del basamento dove vengono fissati i pesetti deve sempre seguire quella che è la direzione dell'obiettivo della fotocamera un altro accorgimento da fare andando a impugnare lo stabilizzatore a porlo in posizione orizzontale e mollandolo bisogna andare a verificare che il tempo di oscillazione completa si aggiri intorno ai due secondi, due secondi e mezzo per quanto riguarda la scelta di quanto peso utilizzare per bilanciare bisogna andare un po' a prove, un po' esperienza per esempio io ho una Reflex sto usando una Nikon D5200 con un obiettivo 18-55 mm e per bilanciare utilizzo solamente i pesetti più piccoli quindi un pesetto da una parte e un pesetto dall'altra andando a posizionare la lunghezza dell'asta circa a metà dell'escursione massima di allungamento dopo aver parlato del dispositivo in sé andiamo a parlare di quello che troviamo nella confezione una volta che lo andiamo ad acquistare nella confezione oltre ovviamente al dispositivo troviamo un set di pesi di due dimensioni troviamo quattro pesi più piccoli e due pesi più grandi che vanno a equiparare il peso uno dei grandi uguale a due piccoli oltre a questi troviamo anche una comoda borsa in plastica in materiale sintetico imbottita al suo interno con doppio manico e cerniera per poter trasportare agevolmente il dispositivo quando dobbiamo muoverci come si può vedere dalle immagini che state vedendo a video l'effetto di stabilizzazione delle vibrazioni quindi riduzione per esempio della vibrazione dovuta al camminare o comunque il tremolio della mano che è normale durante la registrazione con una videocamera o comunque anche con una reflex l'effetto è diciamo notevole quindi con pochissimi accorgimenti di bilanciamento si riesce ad avere un ottimo risultato per migliorare quella che è la qualità video in cattura durante il movimento parlando di prezzo e disponibilità questo dispositivo è stato acquistato su Amazon prima di Natale a 99,99 quindi praticamente 100 euro ma il prezzo non scontato si aggirava intorno ai 250-300 euro se non erro siamo al 28 di dicembre e il prezzo è ancora disponibile scontato e devo dire che per il risultato finale nella cattura del video quindi l'effetto di stabilizzazione delle vibrazioni scusate di riduzione delle vibrazioni quindi stabilizzazione del video e soprattutto per la qualità costruttiva e anche dei materiali non c'è neanche un elemento di plastica come detto direi che 100 euro è assolutamente un buon prezzo soprattutto se si va a pensare al risultato e soprattutto in confronto con i prezzi su cui si aggirano i dispositivi più professionali che vanno a se non quintuplicare o decuplicare il prezzo di questo dispositivo direi che quindi per questa recensione di questa Steadicam Eimo da 60 cm e anche tutto vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video iscrivervi al canale di Tecno Scimiati su cui mi state vedendo seguire ovviamente sia il sito che tutti i social di Tecno Scimiati e un caro ringraziamento alla mia ragazza che me l'ha regalato per Natale un saluto e al prossimo video iscriviti al canale